Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi la stagione si è appena conclusa, il Moto Mondiale ha visto il suo ultimo atto nel GP di Portimao un paio di giorni fa Però questo canale non vi abbandonerà, non vi lascerà appunto soli perché continueremo a portare video sul canale appunto legati alla MotoGP Alcune saranno appunto sulle varie considerazioni del Mondiale appena concluso, altri saranno già proiettati verso il 2021 Perché veramente c'è tanto di cui discutere, tanti spunti veramente molto interessanti da andare a sviluppare con calma nei prossimi video A Portimao si è appena conclusa la stagione, il campionato probabilmente più equilibrato della storia recente Il più corto sicuramente per quello con meno GP della storia recente Però comunque ci sono stati momenti veramente toccanti, veramente unici A seguito comunque di una gara modesta perché comunque Michele Oliveira ha trionfato in solitaria Quindi la gara non ha riservato tanti sorpassi, tanti momenti veramente emozionanti Invece molto più emozionanti sono stati i momenti dopo appunto nel post gara Uno fra tutti, due anzi fra tutti sono i ritorni nei box di Valentino Rossi e di Dovizioso Due piloti che hanno lasciato la loro scuderia Dovizioso lascerà la Ducati per prendersi un anno sabbatico Aspettando appunto notizie dal fronte Mark Marquez Mentre invece Valentino Rossi lascerà dopo tanti anni la Yamaha, tanti anni di vittoria Lascerà Yamaha per accasarsi la Yamaha Petronas Sembrerebbe un cambiamento di poco conto ma invece è un grande stravalgimento Per quanto riguarda la situazione legata a Valentino Rossi Ovviamente ne parleremo Mir su Suzuki ovviamente già da due gare è campione del mondo Con una vittoria al referto, con una sola vittoria al referto Quindi veramente un grandissimo unicum nella storia della MotoGP Ducati campione del mondo per quanto riguarda i costruttori Grande vittoria anche se non sa veramente di appagamento totale Perché la Ducati probabilmente avrebbe voluto lottare per altri obiettivi Anche per altri obiettivi Però la Ducati ha comunque trionfato nel campionato costruttori Grazie alle ottime performance di Zarco con la Ducati Avincia E di Miller con la Ducati Bramac Quindi veramente nella seconda parte di stagione sono stati più che altro loro Con le ottime performance portate a racimolare tutti questi punti Che hanno permesso la Ducati di trionfare nel campionato costruttori Per quanto riguarda il campionato di team a squadre C'è stata la vittoria della Suzuki Quindi Suzuki che è riuscita a battere le altre scuderie Ha ottenuto una doppia corona anziché una tribla Sicuramente un ottimo campionato della Suzuki Che veramente si è dimostrata probabilmente la squadra più che si è migliorata nel corso della stagione Questo qui senza ombra di dubbio Nel post gara abbiamo avuto tante interviste Tanti momenti toccanti Molti hanno analizzato la gara nello specifico Altri hanno già proiettato la loro mente Verso il 2021 Ed è proprio su queste interviste che io voglio soffermarmi oggi Appunto nel video odierno Ci sono stati tanti piloti che hanno cominciato già a parlare In ottica 2021 E voglio analizzare proprio in quest'ottica Le tre case di scuderia più importanti della MotoGP Almeno dal punto di vista storico Sia la Yamaha, la Honda e la Ducati Perché loro tre devono dare una risposta nel 2021 Perché sicuramente la vittoria della Suzuki È meritevole dal punto di vista dell'ottimo lavoro svolto Dal team di Davide Bribio Ma sicuramente rappresenta anche un flop Per la stagione di Yamaha, Honda e Ducati A loro modo hanno comunque flopato nel corso di questa stagione Voglio analizzare queste tre scuderie Appunto proiettandoci in ottica 2021 In tutto questo ci daranno una grossa mano Le interviste fatte dai piloti E allora partiamo con la Yamaha La Yamaha ufficiale del prossimo anno Che vedrà Maverick Vignales e Quartararo In sella appunto alle M1 Maverick Vignales dice Al termine appunto della gara È stata la peggior stagione della mia carriera Difficile da credere Difficile trovare cose positive Ora il potenziale nostro è da top 10 Quindi sicuramente parole molto aggressive di Maverick Vignales Che è rimasto molto deluso dalla stagione Se ricorderete, se potete appunto recuperare il mio primo video in assoluto Su questo canale Parlavo di un Maverick Vignales Che secondo me aveva raggiunto una maturità tale Da poterlo portare ad essere in lotta con Mark Marquez Per il titolo di campione del mondo in questo mondiale Maverick Vignales sicuramente è stato in lotta Perché dal punto di vista dei punti è stato sicuramente in lotta Però ha deluso sicuramente Perché Maverick Vignales non ha mai dato una certa continuità Ai risultati raccolti in questa stagione E appunto si è dimostrato uno dei piloti più incostanti Da questo punto di vista Maverick Vignales che dopo Misano Ha ottenuto un solo piazzamento nei primi 5 Nelle ultime gare Quindi veramente clamoroso Vinta solo la competizione interna con Valentino Rossi Dal punto di vista dei punti Questo non può essere una consolazione Non può essere una nota positiva Valentino Rossi ha saltato tantissime gare Nel corso di questo campionato Quindi alcuni sono stati out suoi Altri sono stati non partecipazioni per via del Covid Quindi è impossibile pensare ad una nota di appagamento Questa vittoria interna con Valentino Rossi Maverick Vignales Una delle più grandi delusioni di questo campionato Quartararo nella sua intervista Ha dichiarato Ho imparato molto quest'anno So bene cosa devo dire a Yamaha Per la prossima stagione Guardando Franco Morbidelli Il problema sono la percorrenza della moto in curva E la gomma posteriore I problemi che abbiamo già analizzato Su questo canale Quartararo appunto li è esplicita In questa intervista in ottica 2021 Cosa dobbiamo dire di Quartararo? Quartararo ha ottenuto due vittorie Nelle prime due gare Quindi veramente un rollino di marce impressionante All'inizio poi Nelle altre dodici gare Ha ottenuto su 300 punti a disposizione Solamente 77 punti Quindi veramente poca roba 19 punti di questi 77 Li ha ottenuti solamente negli ultimi sei appuntamenti Quindi veramente poca roba Soprattutto nella seconda parte di stagione Per Fabio Quartararo Che veramente ha deluso Anche dal punto di vista della posizione in classifica Perché ha concluso 3 posizioni in meno rispetto al 2019 Quindi veramente ha perso Anche in ottica duello con il Quartararo dello scorso anno Quartararo e Vignale Saranno prossimo Saranno piloti della Yamaha ufficiale Yamaha ufficiale che ha veramente tantissimi problemi da risolvere Quindi sicuramente prevedo per loro una stagione molto complicata Saranno per loro molto importanti i test fatti appunto prima della stagione Passando alla Yamaha Petronas Abbiamo Franco Morbidelli Che appunto lui ha detto in intervista Mi sono tolto alcuni sassolini dalle scarpa Ero all'inizio la quarta guida in casa Yamaha Ho vinto quasi il mondiale Ho vinto rispetto agli altri tre Sono soddisfatto in toto per questa stagione Franco Morbidelli che sicuramente è stata la nota più lieta in casa Yamaha Per quanto riguarda questa stagione È veramente strepitosa la sua andata Franco Morbidelli ha un ottimo rapporto con Ramon Forcada Che è il capo tecnico appunto della Yamaha Petronas Ha questo ottimo rapporto E' riuscito a far appunto andare Franco Morbidelli Verso la scelta della moto del 2018 Rispetto a quello del 2019 E rispetto anche a quello del 2020 Quindi lui ha optato per una moto Per un assetto comunque vecchio Rispetto a tutti gli aggiornamenti È stato possibile grazie comunque all'ottimo rapporto Con il suo capo tecnico Quindi sicuramente Franco Morbidelli potrà Sicuramente ripetersi l'anno prossimo Per quanto riguarda le sue prestazioni Da migliorare non c'è tanto la moto di quest'anno Ma l'assetto del 2019 Che lui ha a disposizione sulla moto Alcuni accorgimenti potrebbero sicuramente farlo andare Ancora molto più veloce Valentino Rossi ha parlato Anche lui Pilota l'anno prossimo Della Yamaha Petronas Grande emozione per me Ritorno ai box Ringrazio tutti Comincerà in Petronas La seconda parte della mia carriera Quindi un Valentino Rossi Che sarà l'anno prossimo Come ripeto Pilota A fianco di Franco Morbidelli Della Yamaha Petronas Cosa possiamo dire per la Yamaha Petronas Che sicuramente per loro la questione sarà molto più semplice rispetto alla mia ufficiale Perché loro hanno una base Hanno un punto di riferimento Che è appunto rappresentato da Franco Morbidelli La sua moto vola E l'abbiamo visto in questa seconda parte di campionato Abbiamo una grande armonia Che sicuramente sarà il concetto base Della Yamaha Petronas Abbiamo sicuramente una grande esperienza Data da Valentino Rossi Che sarà sicuramente capace Di migliorare la moto di Franco Di questa stagione Quindi un binomio che sicuramente quest'anno Non ha visto prevalere l'armonia Con Fabio Quartararo Perché sicuramente i due piloti erano molto in contrasto Armonia Concetto di familiarità Che sicuramente sarà il cardine della prossima stagione Loro sono molto amici E prevedono la Yamaha Petronas Addirittura superiore Alla Yamaha ufficiale Per la prossima stagione Quindi sono molto curioso Della performance anche di Valentino Rossi Dato per quest'anno Come pilota finito Ma sicuramente Voglioso e volenteroso Di fare un'ottima stagione Valentino Rossi Possiamo dire che lui è stato voluto Fortemente dalla Yamaha Petronas Dal capo tecnico Dalla Yamaha Petronas E quindi sicuramente Abbiamo una Yamaha Che potrebbe vedere Nella sua Petronas Una maggior velocità Rispetto appunto Alla Yamaha ufficiale Cosa possiamo dire Per quanto riguarda la Honda Invece la seconda Scuderia che vogliamo analizzare La Honda ha toccato il fondo Con questa stagione Senza Mark Marquez Zero vittorie E solamente due podi Preferito sono il peggior bottino Realizzato dalla Honda Nella loro storia In modo GP Quindi veramente una debacle Clamorosa Nel 2019 però Da analizzare C'è che la tripla corona Ottenuta dalla Honda È sicuramente Solamente merito di Mark Marquez Quindi sicuramente Una Honda Che l'anno L'anno scorso È stata monopolizzata Dal campione spagnolo Quest'anno Senza il campione spagnolo Sicuramente ha vissuto Un momento Di grandissima difficoltà Quinta nel campione De costruttori Dietro a Ducati Yamaha Suzuki E KTM E questa probabilmente Potrebbe essere anche La posizione Rispetto alle forze Delle scuderie Perché sicuramente Se Suzuki Ducati E Yamaha Possono più o meno Trovarsi allo stesso livello Con Suzuki Forse leggermente superiore La KTM Potrebbe essere In questo momento Una moto superiore Alla Honda Quindi Veramente Una Honda Che ha vissuto Una stagione Disastrosa Sotto ogni punto Di vista Non era mai scesa Nei costruttori Al di sotto Del terzo posto Quest'anno Addirittura Quinto Andando a analizzare Alex Marquez E la sua intervista Alex Marquez Ha ottenuto Gli unici due poti Di questa stagione Quindi è stato Probabilmente L'unica nota Lieta Ducati Della Honda Ufficiale Bilancio positivo Ho imparato Tanto Due poti Indimenticabili Nel mio DNA C'è Comunque Il concetto Di progredire Quindi lui Ha ammesso Che nella prima parte Di stagione ha avuto Delle grassissime Difficoltà E progredito Tantissimo Ha imparato Tantissimo Nel corso Di questa stagione A 25 punti Aveva 25 punti Di distacco Da Brad Binder Prima Della GP Era in lotta Per essere Il miglior rookie Stagionale O titolo Poi ottenuto Da Brad Binder Perché Marquez Avrebbe dovuto Vincere L'ultima gara Sperando In 1-0 Di Binder Zero Che è arrivato Ma vittoria Di Marquez Che non è arrivata E quindi Marquez Che è andato Comunque vicino Ad essere Il miglior rookie Stagionale Quindi possiamo Comunque considerarlo L'unica nota Lieta Di questa stagione Per la Honda Ufficiale Voglio parlare Anche di Carl Cracciolo Perché Carl Cracciolo Ha detto Sono deluso dal risultato E emozionato Però Alla bandiera Scacchi Fiero di aver lottato Con i migliori del mondo Tutto sommato Voglio parlare Di Carl Cracciolo Perché voglio sottolineare Anche la Honda Di Lucio Cecchinello Che comunque Ha ottenuto Tutto sommato Una discreta stagione Vista comunque Le premesse Ha ottenuto Una pole Con Nakagami Sicuramente Avrebbe potuto Ottenere di più Con il pilota giapponese Perché Nakagami È stato comunque In corsa Bene o male Tante volte Per il podio Una moto Che tutto sommato Si è dimostrato Da veloce Su alcune piste E l'anno prossimo Sarà molto interessante Vedere l'apporto Di Alex Marquez Su questa moto Quindi Un'onda LCR Sicuramente Che Ha limitato I danni Quella che sicuramente È da migliorare È la onda ufficiale Prevede una prossima stagione Molto complicata Perché Arriverà Paul Spargarò Che è un pilota Grandemente esperto Un pilota molto veloce Molto promettente Però Mark Marquez È comunque E resta Un punto interrogativo Sicuramente Mark Marquez Se tornerà Non tornerà Subito Al 100% Abbiamo visto Come questa moto Sia Mark Marquez Dipendente Quindi Teniamo in considerazione Anche l'idea Dovizioso Che se comunque Dovesse approdare La Honda Non troverebbe Subito Terreno fertile Una moto Che è molto Differente Rispetto a quello Che lui Ha sempre guidato Con la Ducati Negli ultimi anni Certo Lui conosce L'ambiente Ma Le cose Sono veramente Sono veramente Molto cambiate Rispetto a quando Lui guidava In Honda Prevede una Honda In crisi Anche nella prossima stagione A meno che Non dovesse arrivare Comunque la conferma Di Mark Marquez Al 100% Dovesse arrivare Mark Marquez Al 100% Sicuramente Troveremo Una Honda Più in alto Nella classifica Costruttori Parlando della Ducati Infine Posso dire Che la Ducati Sì Tutto sommato Ha vinto Il campionato Costruttori Ma non era Quello a cui Ispirava La Ducati Quest'anno Poteva sicuramente Ottenere Molto Molto Di più Analizzando Appunto Lo stravolgimento Che troverà Nel 2021 Sicuramente Avremo a che fare Con una Ducati Che Sarà Con gioventù Al potere I giovani Al potere Marine Bastenina Tenere d'occhio Occhio alle conferme Di Miller E di Bagnaia Hanno vinto Sì Il campionato Costruttori Ripeto Ma sicuramente Non erano Le premesse Alle quali erano Abituati Nel corso Di questi anni Buone scoperte Miller e Bagnaia Zarko Che si è confermato Buoni livelli Miller ha parlato Dicendo Mi hanno Passato Le redini In casa Ducati Sento già La responsabilità Triste Per il gruppo E per i ragazzi Che appunto Lascio Sono emozionato Per il 2021 Quindi sicuramente Miller che ha ottenuto Una seconda parte Di stagione Veramente Strepitosa E quindi Ha vinto Anche nel corpo a corpo Con Franco Morbidelli Quindi si è dimostrato Anche capace Del vincere Il corpo al corpo Sicuramente È pronto Per una conferma L'anno prossimo Nella Ducati Ufficiale Voglio parlare Voglio parlare Anche di Bassanini E di Marini Più che di Petrucci E Dovizioso Perché Petrucci E Dovizioso Lasceranno L'anno prossimo Loro sostanzialmente Hanno detto Più o meno Le stesse cose Petrucci Orgoglioso Del suo percorso Fatto in Ducati Ufficiale È molto Emozionato Nello scoprire La KTM Mentre invece Dovizioso Ha detto Ho ancora il fuoco Dentro Sono pronto A tornare Nel 2022 Se non prima Quindi ha lasciato Comunque la porta aperta Alla onda Nel caso in cui Mark Marquez Dovesse dare forfè Voglio concentrarmi Su Marini E Bassanini Che potrebbero essere Secondo me Loro Le scoperte Dell'anno Del 2021 In casa Ducati Bassanini ha detto Il mondiale È un sogno Che si realizza Ringrazio tutti Sono pronto Per il 2021 Sento di essere Pronto Voglio dire la mia Mentre Marini Ha detto In pista Do sempre Il 100% Ho commesso Qualche errore In questa stagione Voglio sicuramente Migliorare Non vedo l'ora Di correre Il prossimo anno Sono due piloti Molto giovani Molto grintosi E sicuramente Potrebbero rappresentare Secondo me Delle ottime scoperte Per la prossima stagione Loro guideranno La Ducati Avintia Che sicuramente È una Ducati Non complicata Come quella ufficiale Quindi L'abbiamo visto Anche con Zarco Molto veloce Nel corso di questa stagione Potrebbero rappresentare Due liete sorprese Molto più difficile Invece la situazione In Ducati Pramac Perché se Da un lato Vediamo che Probabilmente Zarco Potrebbe confermarsi A buoni livelli Dall'altro lato Prevede una difficoltà Iniziale Quanto meno iniziale Per Jorge Martin La Ducati Ufficiale Bisogna vedere Bisogna vedere i test Perché sicuramente Il progetto principale Progetto base Della Ducati Ufficiale Potrebbe rappresentare Un'insidia Nel caso in cui Non dovesse essere Un ottimo progetto Per appunto Bagnaia e Miller Quindi Sicuramente Sarà molto importante Vedere i test Però Prevedo comunque Anche un ritorno Di Pecco Bagnaia Che sicuramente È un pilota Che nella seconda parte Di questa stagione Ha sicuramente Deluso tantissimo Ed è stato asfaltato Bisogna dirlo Asfaltato Da Jack Miller Quindi In casa Ducati Si prevede comunque Un Jack Miller Punto di riferimento Rispetto a Pecco Bagnaia Ma nulla Non è ancora È stato deciso Voglio parlare anche Di Daligna Perché secondo me Daligna ha detto Delle cose Secondo me errate Perché lui ha detto Questo titolo È la conferma Del lavoro fatto Del duro lavoro fatto Per quanto riguarda Le innovazioni tecnologiche Sulla moto Li parlo ovviamente Del titolo Di campione del mondo Nei costruttori Ringraziamento Questo titolo È un ringraziamento Per tanti anni Di duri sacrifici Parole condivisibili Sicuramente Perché c'è da festeggiare Comunque un titolo Lo portavano a casa Non lo portavano a casa Questo titolo Nello specifico Dal 2007 Quindi sicuramente C'è motivo di festeggiare In casa Ducati Però Bisogna ammettere Che non era Non era l'obiettivo Alla quale La Ducati Ce l'aveva abituato In corso di questi anni Dovizioso Ha sempre lottato Per il mondiale Insieme a Mark Marquez Il peggior competitor Possibile Per Mark Marquez È stato Dondea Dovizioso Nel corso di questi anni Il resto L'hanno tutti quanti Mark Marquez Le ha battuti tutti quanti Nel corpo a corpo Invece l'unico Che ha comunque lottato E ha vinto Nel corpo a corpo Con Mark Marquez È stato Andrea Dovizioso Sicuramente Dovizioso Poteva vincere Nel corso di questa stagione Quindi sicuramente Non condivido La gioia smisurata Di Daligna Per il titolo vinto Bisogna festeggiare Sì Un titolo che non veniva Ripeto Dal 2007 Però C'è un rammarico Di non aver fatto Di più Ragazzi Questo Era una sorta di repilogo In casa Yamaha Onda E Ducati Perché sono queste tre Case produttrici A appunto Dover dare delle risposte Nel 2021 Devono appunto Smentire Quella che è stata Una stagione Scandalosa Certo certi punti di vista La Honda sicuramente È stata una stagione Disastrosa per loro Ducati che Poteva dare un colpo decisivo A un certo punto Della stagione Si sono limitati A fare una lotta interna Contro vizioso Veramente Inspiegabile Scandaloso E la Yamaha Doveva essere L'anno della Yamaha Ritorno alla vittoria Di un pilota di Yamaha E invece Ancora una volta Non risolvono I problemi Che sono appunto In lista Dal 2016 Vignale Si ha detto La moto del 2016 Va meglio Per me Rispetto a questa qui Quindi veramente Parliamo di un progetto Che veramente Vede errori Dal 2016 Adesso Quindi una situazione Scandalosa Ragazzi La Suzuki ha vinto Vedremo Quale sarà Il rendimento Della prossima stagione Anche di queste tre Case produttrici Vi attendo Appunto Su questo canale Per i prossimi video Perché continuerò A portare contenuti Di questo tipo E cercherò Anche di stilare Per settimana prossima Una pagella Dove appunto Faremo il top E i flop Di quella che è stato Appunto Questa stagione Quindi ragazzi Non vi resta Che iscrivervi al canale Se siete interessati Ai video della MotoGP Vi invito a mettere like Se questo video vi è piaciuto Vi invito a commentare Per farmi sapere La vostra opinione Nello specifico Ragazzi Io vi saluto Ciao a tutti Da Domenica Versa Ciao a tutti raga